Hola ragazzi, buongiorno e buon venerdì, ieri sera ero in palestra e mi è venuta in mente questa cosa che sicuramente qualcuno avrà già fatto ma mi è venuta in mente ieri sera e la condivido con voi oggi Pulling, sdraiati, vi sporgete un po' in avanti come se dovesse fare un hip thrust per dire barra dritta dietro e fate il pullover o pulldown, chiamatelo come volete Oh raga, ve lo giuro, io ho sentito i dorsali di brutto, ma molto molto di più rispetto alla versione in piedi quindi provatelo e fatemi sapere BOOM